Volevo tentare un'analisi da lettore, insomma un'analisi che permetta poi di trovare un criterio interpretativo. Un brano che non sarebbe concepibile, scritto in questo modo, se non all'interno di una forte credenza religiosa. Il dramma in questo brano è tutto intimo, è tutto interno, è in qualche modo rassegnato, perché pur nella morte, pur in questa situazione terribile, non vediamo mai la disperazione. Quindi non c'è disperazione, il brano ci dice che c'è una speranza, c'è la possibilità di un incontro, di un incontro in un altrove, dove madre e figlia e figlie sperano di reincontrarsi. Per cui, diciamo, la presenza della fede, o di una fede, insomma, caratterizza questo brano. Il vissuto tutto intimo del dolore, l'enorme dolore, ma anche la contenutezza di questo dolore, la mancanza di manifestazioni esterne, esteriori, drammatiche, di un'esibizione del dolore, ma anche di un buttare all'esterno questo dolore, no? Di farlo diventare lamento, farlo diventare gesto plateale. No, tutto è assolutamente contenuto e vissuto al di dentro, e questo che dà poi un enorme spessore al personaggio e un'enorme drammaticità alla scena che rappresenta, no? E questo che poi va anche reso nel registro che bisogna poi trovare per raccontarlo. Niente di esteriore, niente di drammatico, niente di plateale, un'atmosfera assolutamente contenuta. Poi il ritmo di questa narrazione. Questa narrazione ha un ritmo di per sé lento, perché è fatto di particolari, è fatto di un insieme di parole, di inquadrature e poi di gesti, che hanno bisogno tutti di un'attenzione particolare. Tutti sono estremamente importanti nell'economia del brano. Le parole sono molto poche. Le figure che ci sono, la madre, la figlia morta, la bambina che sta per morire, il monatto, di queste figure ce n'è solo una che parla e dice brevissime frasi. Gli altri sono tutti silenziosi. Ovviamente la bambina morta è silenziosa. Il monatto non parla perché, e per una forma di pietas nei confronti di questa donna, non parla. Ma la seconda ha gesti. Aderisce al suo desiderio, ultimo, diciamo per quello che può fare, e non parla, solo gesti. Accetta la borsa col denaro, ma non parla. Si mette solo la mano al petto. Gesti. Parlano i gesti e parla l'autore, parla in questo caso il poeta, perché siamo in un terreno di poesia. E il linguaggio è un linguaggio poetico, fatto di immagini poetiche e anche di figure poetiche, figure retoriche. E anche la costruzione, poi, no? È una costruzione che è fatta fondamentalmente di quattro parti. Quattro, in poesia possiamo dire quattro strofe. Quattro parti che si equivalgono praticamente in lunghezza e che però, diciamo, hanno come centro qualcosa di diverso. Insomma, ogni parte è, per un certo verso, a sé stante. In ogni parte si punta a un obiettivo diverso. La prima, per esempio, è tutta focalizzata sulla figura della madre che scende dalla soglia di uno di quegli usci, però si vede solo lei. È come se un riflettore inquadrasse solo lei, neanche la bambina che porta in braccio. Ma tutto si rivolge solo alla figura della madre, a descrivere questa figura che esce perché deve consegnare nel convoglio, nel carro condotto dai monatti, deve mettere il corpicino della sua bambina. C'è la descrizione dell'aspetto di questa madre, come si presenta, no? Chi è? Cioè, come viene raffigurata? C'è una figura dretorica predominante in questa strofa, diciamo così, che è, secondo me, insomma, io ci ravvedo la figura dell'antitesi. La figura dell'antitesi, per esempio, è quella che adopera Dante in una terzina quando dice che consiste nell'ottenere il rafforzamento di un concetto aggiungendo la negazione del suo contrario, di qualcosa che assomiglia al suo contrario. E allora Manzoni cosa dice? Il suo aspetto annunciava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa, quindi ancora in una fase degli anni in cui è ancora giovane, ma non più troppo giovane, ma neanche è entrata nella fase della vecchiaia. Vi trasferiva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta. Era bella, di una particolare bellezza, non bellissima perché probabilmente anche il dolore distruggeva, la sfigurava, quindi non guasta, già non guastata da una gran passione e da un languor mortale. Anche qua, una gran passione e un languor mortale. Come Manzoni descrive questo dolore senza bisogno di aggettivazione di quell'aggettivazione che per esempio troviamo in certi racconti di Lovecraft, che so io, insomma, no, orribile, bruttissimo, che strazio, straziante, eccetera, no? Anche gli aggettivi sono molto misurati, molto contenuti e non è grandissima l'aggettivazione, no? Una gran passione e un languor mortale. Passione, languore. Il languore era mortale, nel senso che, insomma, si stava confrontando con la morte, non solo la morte della sua bambina, anche la sua, insomma, peggio di così. Queste due figure retoriche, diciamo così, sono seguite da una considerazione, insomma, manzoniana, no? Quella bellezza molle è un tempo stesso maestosa che brilla nel sangue lombardo. Questa bellezza particolare, insomma, no? che lui riconosce nelle donne lombarde. E poi anche notare, no? Che quando dice veniva verso il convoglio una donna, non la chiama per nome, no? È una donna, una delle tante, una di un popolo della città di Milano che tutta insieme soffriva un gramma terribile. e quindi è una rappresentante di un insieme che individualmente vive questo dramma, ma anche, insomma, si capisce che è un dramma presente anche in tutte le altre o in moltissime altre donne che vivono il distacco, la morte dei parenti, dei figli, degli amici o la loro morte individuale, no? Quindi una donna, una delle tante, una del popolo. Poi altri due periodi che contengono questa figura retorica, l'antitesi, e sono la sua andatura, no? Punta prima la guarda in faccia, poi come cammina, come si muove, no? la sua andatura era affaticata, ma non cascante, fatica, ma non lasciarsi andare, c'è ancora il controllo in qualche modo dei gesti, del cammino. Gli occhi non davano lacrime, ma portavano segno di averne sparse tante. Chi ha pianto tanto, poi non ha più lacrime. Ecco, questa donna le aveva già spante tutte le sue lacrime, ora non lacrimava più, ma si leggevano nel viso i segni di questo pianto. Ed ecco la descrizione, no? del dolore, la considerazione che fa Manzoni, no? C'era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo. Ed ecco che l'interprete deve anche capire questo, no? il pacato e il profondo. Cioè bisogna andare in profondità, ma senza esternalizzazioni, pacatamente. Quindi con una grande riflessione. E tutto questo dolore è in tutta la sua persona. cioè attestava un'anima consapevole e presente a sentirlo. Cioè era ancora in una situazione tale di essere dentro in tutto il suo dolore, di sentirlo e di elaborarlo. Quindi era ancora padrona di sé e del suo dolore. E tutto questo le dà una nobiltà, una dignità incredibile. La grande forza, no? Di questo personaggio, di questa persona che così inquadrata sentiamo già profondamente, no? Ma non era solo il suo aspetto, no? Che tra tutte le miserie e tutto quello che stava succedendo nella città di Milano a causa della peste la rendeva un oggetto di pietà per chi la vedeva, per chi la guardava, no? E soprattutto chi la guardava si sentiva ravvivare questo sentimento di pietà che ormai era quasi stracco, dice Manzoni, e ammortito nei cuori, nel senso che l'abitudine al dolore ormai aveva reso quasi sterili, quasi quasi incapaci di provare più pietà perché si vedeva talmente tanto male che si si era abituati intorno, no? Ecco, lei provocava su di sé questo sentimento di pietà, ma non era solo questo e questa è un'anticipazione per la strofa che viene dopo, no? Perché c'è qualcos'altro che la rende oggetto di pietà, non era solo il dolore che le vedevamo in fazza, cos'era quell'altro? Era il fatto che lei portava al collo una bambina e qua dice l'età di forse nove anni quindi non era una bambina piccolissima, no? Portava in braccio una bambina morta e qua dice una bambina non dice ancora la figlia perché si dovrà capire dopo che questa bambina è la figlia alla fine di questa strofa e questa bambina com'è? Allora lo sguardo passa dall'osservazione dell'aspetto della madre a quello della bambina però l'aspetto della bambina denuncia l'opera della madre questa bambina è tutta ben accomodata ben sistemata coi capelli diciamo ben pettinati con un vestito bianchissimo pulitissimo come se l'avessero addobbata per portarla ad una festa qui dietro c'è l'opera della madre la pietas della madre che si era rivolta alla bambina alla figlia ma in questo momento alla bambina e qui è importante notare quello che dice adesso Manzoni ne la teneva a giacere perché se pensiamo come si porta un morto un corpo morto lo portiamo così cioè un corpo morto lo portiamo così sulle braccia lo portiamo adagiato sulle braccia se avete in mente la deposizione se vedete Maria che tiene in braccio il Cristo quello è il modo di tenere in braccio un corpo morto ci sono delle posture no classiche c'è un modo di portare un corpo morto c'è anche lo vediamo per esempio se guardate di vago un attimo ma se guardate per esempio in pittura voi vedete che la gran parte dei quadri che raffigurano per esempio Giuditta e Loferne quando la testa di Loferne quando viene tenuta dopo essere stata decapitata voi vedete che la testa decapitata mozzata viene tenuta per i capelli che è il modo più diciamo così più comune di portare una una testa mozzata i quadri che raffigurano Giuditta e Loferne mostrano questa testa tenuta per i capelli ma i quadri per esempio che che raffigurano la la decapitazione di la decapitazione di Giovanni del Battista in questi quadri vediamo che la testa è portata su un piatto diciamo in maniera un po' innaturale è portata su un piatto ma tutti i quadri che mostrano o la grandissima parte dei quadri che mostrano la decapitazione del Giovanni Battista mostrano una testa portata in un piatto allora ci sono anche dei modi di rappresentare le posture insomma delle posture tipiche in questo caso ci mostra che questa bambina viene tenuta in brazzo dalla madre col petto appoggiato al petto con la testa abbandonata sull'omero no? ci fa ci suggerisce che questa madre ancora sente che questa bambina è come se fosse viva non è avvenuta ancora la separazione dentro di là insomma la porta come porterebbe una bambina addormentata una bambina addormentata non si tiene come un bambino morto si tiene in braccio con la testa appoggiata sulla spalla no? lo sapete bene insomma e in questo caso diciamo non è ancora avvenuta la separazione tra madre e figlia insomma questo modo di portarla di accompagnarla fino al carro del monatto è ancora una modalità diciamo come se questa bambina ancora vivesse per la madre la quale è consapevole ovviamente che la bambina è morta e quindi ne la teneva a giacere ma sorretta a sedere su un braccio col petto appoggiato al petto come e lo dice Mazzoni come se fosse stata viva ma c'era qualcosa qualcosa per chi osservava che tradiva che questa bambina non era viva e qua no c'è questa cogliere questo particolare questo braccio che penzola inerte che penzola da una parte con una pesantezza innaturale no? e anche la testa della bambina che è appoggiata alla spalla ha un abbandono quindi è rilassata in un modo che non si vede in chi è soltanto addormentato per cui dei segni fanno capire che questa bambina è morta e quindi per ritornare a prima diciamo muovono in chi osserva questa scena una pietà ancora maggiore no? non era il solo aspetto che la indicasse così particolarmente alla pietà sulla prima strofa c'era anche questo c'era anche il fatto che teneva questa creatura morta in questo modo in braccio qua ci fa capire Manzoni che era la madre della madre dice alla fine no? di questa strofa anche se questa bambina non avesse somigliato alla madre no? non si fosse capito dalla somiglianza si capiva che questa donna era la madre proprio dal dal sentimento del sentimento di dolore contenuto che traspariva in questa donna che diceva chiaramente che era la madre e con questo si conclude la seconda strofa di questo brano poetico no? la terza è dedicata un pochino al monato e qui c'è il primo momento in cui si sente la parola in cui c'è una frase detta la madre di Cecilia è l'unica a parlare un turpe monato va anche qua gesti no? un turpe perché fa un lavoro fa un lavoro sgradevole fa un lavoro turpe fa un lavoro squallido non so come definirlo insomma terribile no? quello di raccogliere i cadaveri dei morti ma che qualcuno doveva pur farle no? allora il turpe si riferisce all'attività al lavoro del monato no? questo turpe va lo vediamo che va in sequenza cinematografica no? che va per togliere la bambina dalle brazza no? però è coinvolto dal dolore della madre no? e ha qualcosa che per lui è un rispetto insolito è abituato a fare questo lavoro con molta più disinvoltura con molta più non curanza esita no? il che ci fa capire che che l'emozione diciamo il dolore della madre si trasferisce indirettamente anche nel monato persona diciamo già dura per definizione no? e la madre cosa fa? quando questo va lì a prendere la bambina si tira un attimo indietro no? però non per sdegno o per disprezzo no? non perché abbia paura perché sa che che lì deve arrivare no? a darglielo ma vuole guadagnare ancora un momento no? e soprattutto vuole avere un minimo di forza contrattuale no? ed è qui che parla e dice no non me la toccate per ora devo metterla io sul carro prendete devo metterla io sul carro perché è l'ultimo gesto che lei può fare nei confronti della figlia dopo non non la vedrà più se non diciamo nell'aldilà insomma secondo la diciamo la visione del tempo no? la presenza di Dio l'immanenza di Dio nella storia no? e quindi l'ultimo gesto di pietra si vuole compiere la madre è quella di metterla lei sul carro lei avrà una perché sa di avere un'attenzione maggiore una cura maggiore un riguardo maggiore per quel corpo che che è solo corpo insomma no? e contratta insomma no? dà del denaro al monato gli dice prendete e così dicendo gli fa vedere una borsa di denaro aveva già preparata questa borsa con i soldi il monato gli tende la mano e lei lascia cadere questa borsa nella mano del monato i monati facevano queste cose no? si prendevano i soldi dai morti eccetera insomma era era un modo per guadagnarsi e quindi una volta che ha fatto questa piccola contrattazione ha esitato gli ha dato i soldi poi gli estorce anche in qualche modo un impegno no? promettetemi di rispettarla chiede rispetto per il corpo della figlia no? quindi di non levarle un filo dintorno così come l'aveva sistemata lei così deve deve essere insomma no? deve essere sepolta così non lasciate che altri la tocchino insomma no? rispettiamola mettiamola così sotto terra promettetemi gli strappa questa promessa e il monato non parla il monato si mette una mano sul petto e quindi risponde con un con un gesto insomma non un gesto in cui a seconda la richiesta fa capire che a seconda la richiesta della madre no? e si fa premura insomma no? è quasi conquistato dal dolore di questa madre no? più dal dolore di questa madre che dai soldi che ha ricevuto che non si aspettava e a questo punto cosa fa? va nel carro in cui sono i cadaveri e cerca di far spazio di lasciare di far trovare un posto di creare un posto sul carro per la piccola morta e qui si conclude la terza parte no? in cui c'è questa questo dialogo c'è questo questo incontro e questo momento della madre con il monato e poi c'è l'ultima parte insomma che è quella del distacco l'ultima parte che è quella del distacco che è fatta di gesti no? e qui questi gesti sono molto precisi no? la madre quindi dà un bacio in fronte alla figlia la mette lì su quel posto che il monato l'ha fatto sul carro come in un letto cerca di di metterla più comoda possibile insomma il massimo che si può fare stante le possibilità no? la comodò la sistemone il modo migliore possibile le mette sopra un panno bianco per rispetto insomma no? anche della copre insomma il cadavere no? e le dice le ultime parole quindi prima diciamo il piccolo dialogo con il monato e qui l'addio addio Cecilia la promessa in qualche modo no? l'anticipazione del prossimo incontro no? che prevede la morte della madre e dell'altra bambina che ancora che stava morendo anche l'altra sorellina più piccola e quindi prega intanto per noi e quindi stasera verremo anche noi per restare sempre insieme è una promessa di un futuro incontro no? e intanto tu che sei già di là prega per noi tutto questo senza un'immanenza di Dio nella storia a quei tempi non sarebbe stato possibile no? la morte sarebbe stata più disperante probabilmente il dolore sarebbe stato diverso non lo so noi non l'avremmo percepito così le ultime parole alla figlia una volta sistemata sul carro e poi le parole che rivolge le ultime parole che rivolge al monatto stasera tornate qua e prendete anche noi madre e l'altra figlia erano destinate a morire anche loro e quindi ad essere raccolte dal monatto capiamo che anche lei sta per morire e qui diciamo l'incontro finisce a questo punto ha fatto tutto nei confronti della figlia morta quello che poteva fare l'ultima cosa che può fare è quella di cercare di vederla andare via col carro il più a lungo possibile cioè di seguirla con gli occhi il più lontano possibile per fare questo cosa fa sale in casa e quindi apre la finestra prende la bambina più piccola in modo che anche lei possa vedere e qua bambina più piccola che ha i segni della morte in volto non ci dice quali sono no è importante in questo brano quello che Manzoni ci dice ma anche quello che non ci dice però segni della morte è chiaro insomma sappiamo che a sera i monati troveranno anche queste due persone madre e figlia morte se ne sta contemplare queste contemplare no possiamo ragionare sul termine non guardare contemplare guardare con con una particolare attenzione con una particolare devozione no quelle così indegne esecue della prima e qua ci viene in mente anche ci viene in mente come vengono ci ritorna in mente anche il presente no certe esecue indegne di morti in situazioni di epidemia no queste esecue senza 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 il seguito senza il carro funebre senza il funerale senza un rito no indegna dalla finestra guarda il carro e lo segue lo segue fin dove lo può vedere fin dove l'occhio arriva finché non scompare alla vista a questo punto cos'altro può fare no sembra non si può fare che così che altro si può fare no tutto quanto segue la logica dell'inevitabile della mancanza di alternative insomma si può fare solo così la madre di Cecilia fa tutto quello che che può fare ma non può fare di più cos'altro si può fare questo è l'inevitabile insomma e quindi sembra una sequenza di cose che che non potevano essere non fatte e che non lasciavano alternative e quindi che altro potei fare se non a questo punto lasciarsi morire era alla finestra rimette a letto la bambina più piccola con i segni della morte in faccia e anche lei si mette accanto alla bambina e aspetta la morte la falce la morte che parezza tutte le erbe del prato fa cadere insieme taglia contemporaneamente se è il piccolo fiore ancora in boccio che che il fiore è già rigoglioso insomma no? quindi insieme muoiono la madre e il bambino anche in questo passo troviamo una piccola antitesi quando dice tenendo in collo un'altra bambina più piccola ma con i segni della morte è in volto non è proprio una contrapposizione però insomma no? l'andamento quando lo leggiamo più volte vediamo che che questo brano ci suggerisce un ritmo no? e ci dà anche le indicazioni per come deve essere letto no? il ritmo deve essere lento deve far capire tutte le sfumature possibili e perché per poter far questo diciamo deve essere lento deve essere molto intimo deve essere molto il dolore deve essere interno non deve essere esibito non ci deve essere una retorica del dolore bisogna poter rendere intimo cioè rendere avere dentro questa questa sfumatura che poi ci fa identificare con 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 la madre di Cecilia insomma con questa donna quindi un dolore non esibito non ci deve essere niente di retorico perché non c'è niente di retorico in questo brano e quindi anche la musica non ci deve essere possibilmente bisogna cercare di eliminare tutta tutta una possibile retorica anche del del dolore no è tutto intimo tutto contenuto tutto vissuto dentro e tutto nelle parole nelle singole parole che il Manzoni non a caso poi mette così pochi dialoghi e così essenziali e così poco i personaggi parlano e soltanto la madre di Cecilia dice alcune cose indispensabili il monatto stesso non ha voce per parlare è una pietas che questa donna ci fa provare che ci toglie anche la parola e quindi con la parola dobbiamo riuscire leggendo dobbiamo riuscire a rendere questo se è possibile insomma se siamo capaci di entrare nel climax di questo brano ripeto senza nessuna retorica e senza nessun elemento retorico che possa accompagnarsi insomma a questo brano ecco buona serata